buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo e bellissimo strabiliante video molto 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 casual e carino ovvero se c'è l'ask l'ask di marghe giulia kawaii c'è ditemi quando c'è di meglio dell'ask di marghe giulia kawaii c'è 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 e te pareva prima dovevano parlare le persone noi ti registriamo un video e le persone parlano perfetto andiamo dai bimba piangi dai bimba vai piangi allora passiamo a noi perché di questa gente non se ne frega giusto ragazzi allora sotto questo bellissimo mio scali bellissimo insieme staremo benissimo insieme c'è scritto antonio iniziamo allora vediamo un po' vediamo se non è giusto allora prima è uno che e c'è una rave si dai non scivolare perché cadi si non scivolare perché cadi hai ragione bimba non scivolare che cadi bimba non scivolare allora dai un altro po' no signora no perfetto dai no parlate ancora un po' di scivolare non scivolare non scivolare bimba stai staremo benissimo insieme staremo benissimo insieme oppure oppa che non sono e mia sorella oggi se mi sapeva che ero giusto scusi ho fatto oppa che non sto allora cominciamo con Lucia Fere dai signora brava ora non parli brava brava bravissima proprio ora non ci servi signora grazie esatto andiamo dai oddio stavo cancellando il commento non so perché no ti prego ti prego no non ci riesco no non l'ho cancellato cioè oggi no non si può registrare questo video oggi perché oggi non si registrano video perché ci sono un sacco di di promessi come si chiamano e quindi non registrano video perché c'è la signora che parla poi io non so parlare che Angelo è Giulia che sta dormendo allora tu se non ti muovi ecco qua allora Lucia Fere siete mai stati presi in giro dai haters allora ragazzi prima di rispondere a questa domanda io voglio dire che lo sappiamo che si chiamano haters ma mi dispiace ma noi si chiamiamo haters perché questi haters appunto sono i haters semplicemente vanno pronto e vanno quindi noi li vogliamo chiamare i haters lo sappiamo che si chiamano haters però no 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 perché noi siamo originali e particolari le vasto mazza quindi personalizzate su grazie che ci domande sono consigliate che hanno solo schifo fanno fanno schifo e capire hanno schifo e pu pu è nel corno pu pu è nel corno pu 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 ti dico vento e pa ok ok ragazzi allora andiamo avanti dopo aver risposto a questa è carinissima domanda oh my god o la mazza o la mazza ma la mazza andiamo avanti come si escono questi commenti brutti oh giù ma per favore ah è non abbiamo risposto la domanda cosa termina l'ho aggiornato ehm l'ho aggiornato l'ho aggiornato l'ho aggiornato paolino paolino fin quando porterete avanti il canale per tutta la vita 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 pure infinito pure il cielo pure il cielo il paradiso pure sempre 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 come una stella che brilla non c'è io ti prometto che sarei belle e vive come una stella che brucia non c'è ruotino guarda ma ancora sta cosa perché tu ci sarai non posso cadere la tua non c'è qui per te d trattino basso full trattino basso mai trattino basso like trattino basso vi hanno già ritirato il telefono mi salutate sono angelica no per fortuna i nostri genitori non ce l'hanno ancora ritirato perché per fortuna non siamo cattive non è vero non è vero assolutamente tanto che non c'è ruotino guardate è una allora non trovo una domanda ecco questa mi piace perché io sono golosa e mi piace questa domanda marty trattino basso marty punto trattino basso 2006 vi piace più la nutella o il dioreo il cioccolato o le caramelle mi salutate nutella a vita nutella a vita nutella a vita cioccolato quello la bianco caramelle per sempre la mia cosa come lei come lei come lei guardate lei ti capelli ne ozio non ci vogliono sta bene no Giulia noi non dobbiamo registrare questo video dove ci stiamo facendo c'è ma bebe il catina totale cioè guarda truscata 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 non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma guarda ci mostro praticate e dai praticate qualche sforzo mare o montagna estate o inverno allora pratichiamo qualche sforzo io no però pratico tipo canto Giulia tu io niente non c'è sinceramente questa casa a montare mare o montagna a mare perché la montagna c'è sì mi piace però il mare più bello perché l'acqua a te Mario montagna la canna rostita Mario montagna ti piace più il mare più la montagna mi piace e dice dinne una e allora mare o montagna Giulia montagna io il mare perché tipo ti fai fino all'acqua bello e dai cavolo estate o inverno estate o inverno estate perché l'estate posso amare l'acqua ma mi dipende perché tipo quando sto in estate voglio l'inverno quando sto in inverno voglio l'estate e anche io a caso però quando ti posso io quando sto in vacanza no l'estate cioè dico no non devi passare più l'estate l'estate è tornata e chiede di te no 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 bellissimo quella tiziano ferro allora voi dovete sapere che il mio canto è per il tiziano ferro e lo farò per sempre perché lui è un cantante bravissimo fa cantare benissimo è bravissimo allora tiziano ferro c'è nono è spostata è incazzata non sai già è spostata in inglese a te invece Giulia che è cantando è il tuo per il rito ti c'è no te lo giuro te lo giuro andiamo 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 aspetta devo dire una cosa perché a parte questo perché mio padre non è sempre bravo tanto tempo fa quando eravamo piccoli ha fatto questi video piccoli che voi avete visto sull'altro canale di magic tv la come si chiama non mi ricordo cosa? magic tv ci sono questi video con queste varie canzoni però voi non sapete di chi sono è impossibile di tiziano ferro è troppo bravo e sono di tiziano ferro quindi andiamo dai basta 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 pubblicità tiziano no è vero stiamo scherzando ragazzi ragazzi stiamo scherzando ma io avevo preso un commento troppo bello che io l'ho perso bello ecco ecco ho trovato allora lady pasho che sport fate? qual è la vostra materia preferita? vi piace fare shopping? mi potete salutare per favore vi adoro un bacio allora che sport fate? già l'abbiamo detto niente io canto però non è uno sport quindi no io non stai mangiando sul divano tu Giulia cosa fai niente? io mi chiesto sul divano e mi chiedi mangiare hai capito che tu l'anno prossimo fai canto fai qualcosa di zero sono questa ingatina in casa qual è la vostra materia preferita? mate matematica 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 la matematica è la superiore alcuni la odiano e io dico il perché perché si deve amare l'italiano se poi c'è la matematica? vabbè aspetta mi parla a me spettacolo allora quando vedo che tipo io entro in un negozio compro qualcosa poi c'è la busta qua no io dico no babbo pure qua pure qua pure di qua pure di là vabbè sinceramente papà poi torna a casa con la carta di credito finita ciao cat ciao cat ragazzi me lo vedi tu che tu sei scema mi ha solo la mamma vabbè comunque c'è un bello se fosse tutta colpa mia non me la perdonerei qual è la vostra paura più grande? potete fare una potete salutarmi certo allora una cosa qual è la vostra paura più grande? non fammi pensare non mi pensare allora prima era di più a me lasciate di youtube perché se lo dovrei lasciare non sentire male perché se vi lascio a voi mi sento la paura vabbè allora a me invece è youtube sì perché se vi lascio come se stessi a disagio oh mi senti come delle sorelle perché è vero è come se tipo ci stiamo fupando su compito allora dai la paura più grande eh ok l'abbiamo detto poi l'abbiamo detto qui è la paura del burro che? paura del burro vabbè si pure io e perchè avete scelto di aprire il canale, siete state subito convinte di portare questa mia vita allora, questa è una storia da raccontare io perchè io sono stata l'originaria del canale io, io, no, io allora, praticamente è cominciato tutto che, allora, l'ultima è tutto il piano allora, mia sorella, veramente, faceva questi, questi, mia sorella non faceva gli elastici, quelli là, per fare il volo ma è arrivata a 100 iscritti, poi abbiamo fatto una, arrivando la mia madre in macchina è partito il nostro volo e siamo diventate delle youtube sicure di quello che facciamo esatto subito, subito sì ragazzi, allora, ultrapò anche questo video è finito spero che sia piaciuto, hanno piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram, marghegulia.com.it su facebook, marghegulia.com.it su youtube, marghegulia.com.it su youtube, marghegulia.com.it noi vogliamo facciare il mio amore che adesso è stato madre, è una stracola signora, non parli più ah, bambina, non ci vuole più delle scarme, ma il mio amore che ti ti ha detto, ok? i miei video devono essere bellissimi ciao! ciao!